Il nemico cercherà di aprirsi la strada con gli strumenti da assedio. Disponi le truppe più pesanti a difendere eventuali brecce nelle mura. Sii pronto per sortite in avanti e dirigi il fuoco sui nemici. Cercheranno di mettere in fuga i tuoi difensori, e se questi scapperanno in massa, la battaglia sarà perduta. Ordinare fuoco a volontà alle truppe che difendono un forte farà sì che impieghino i cannoni fino all'esaurimento delle munizioni. Infanterie! Au rapport! Oui, monsieur! Infanterie d'élite! Infanterie! Au rapport! à! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!